Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della linea ferroviaria Augusta Catania e Bicocca. I lavori saranno di 81 milioni di euro e verranno appaltati il prossimo gennaio. Saranno appaltati a gennaio prossimo i lavori per la velocizzazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria Augusta Catania e Bicocca. Il costo per la realizzazione dell'intervento è pari a 81 milioni di euro di cui 64 saranno destinati ai soli lavori. Ciò è quanto emerso in seguito a precise richieste formulate dal parlamentare regionale Vinciullo in quarta commissione legislativa presso l'Arsa e i dirigenti regionali delle ferrovie dello Stato. È stato formalmente sbloccato un procedimento tecnico-amministrativo che da anni era impantanato anche per la mancanza delle risorse necessarie per poter eseguire lavori. Con fondi europei verranno appaltati questi lavori che saranno di fondamentale importanza per poter avviare il collegamento fra il porto di Augusta con il resto della rete ferroviaria siciliana e nazionale e che metterà Augusta in contatto con i tre nodi strategici ferroviari Catania, Palermo e Messina. Ora la battaglia si sposta sulla velocizzazione del collegamento con la città di Siracusa spiega il parlamentare regionale Vinciullo la riapertura della stazione di Priolo e il collegamento veloce con l'aeroporto attraverso la realizzazione di una bretella di collegamento ma anche con il riutilizzo delle aree interne alla stazione di testa di Siracusa in contrada Pantanelli. Chiude la banca Cassibile. Una raccolta di firme e una lettera alla dirigenza nazionale del Monte dei Paschi di Siena per scongiurare la soppressione dello sportello. Cassibile rischia di rimanere senza alcun sportello bancario. L'amministrazione della banca Monte dei Paschi di Siena pare abbia infatti deciso di chiudere Tucur la sede dell'agenzia sita nella circoscrizione. Una notizia che sta provocando preoccupazione a molti imprenditori e anche a residenti di Cassibile molti dei quali hanno un rapporto di clientela con l'Istituto di Credito ormai da anni. La chiusura dell'agenzia bancaria metterebbe in serie difficoltà soprattutto per il fatto di doversi sobbarcare distanze importanti per avere altri contatti con banche Siracusa, Floridia, Avola per non andare troppo lontani. Per scongiurare la chiusura degli sportelli bancari i residenti di Cassibile hanno effettuato una raccolta di firme consegnata al presidente della circoscrizione Paolo Romano. Questi ha preso carta e penne e ha scritto alla direzione nazionale della banca Monte Paschi di Siena. Si è confermata la chiusura, dice Romano, in una realtà economica come quella di Cassibile Fontana e Bianca significa colpire ulteriormente un'economia che si sforza in ogni modo di superare questo difficile momento di crisi. La richiesta è quindi quella di revocare la decisione di chiudere la banca mentre al prefetto Armando Gradone è stato chiesto di convocare con urgenza le parti per discutere della problematica. Le organizzazioni sindacali FP, Cigel, FP Cisle, Will, FPL e Fialz hanno promosso per domani dalle 10 alle 12 un'assemblea sindacale rivolta a tutto il personale dell'azienda ASP. L'ASP di Siracusa ha attivato le procedure necessarie per garantire comunque nella fascia oraria che interesserà il movimento sindacale la continuità delle prestazioni indispensabili. Quindi potrebbero esserci maggiori disagi dalle 10 alle 12 agli sportelli CUP, scelte, revoche e attività certificativa dell'EPTA di via Brenta. Un intervento contro i cosiddetti cartelloni selvaggi, gli eventi natalizi e sul bilancio a foro dei centri commerciali naturali del capoluogo. La richiesta è stata avanzata dal Cenaco di Grotta Santa Gradina e all'assessore Scrofani. Il Cenaco incontra per la prima volta l'assessore comunale al bilancio Gianluca Scrofani e al centro della discussione, a parte il bilancio stesso, gli eventi e la cartellonistica selvaggia nell'area a gradina Grotta Santa. Il presidente Franco Veneziano ha ribadito l'esigenza di inserire un capitolo di spesa ad hoc per i centri commerciali naturali in città. Il sindaco Garozzo a suo tempo pensò di destinare la cifra simbolica di 1000 euro nello specifico capitolo. Veneziano ha trovato disponibilità al confronto e la volontà di attuare una serie di benefit a favore dei consorsi dei commercianti. Ho sempre ritenuto questi centri importantissimi in quanto rappresentano da sempre il polmone produttivo della città, ha affermato l'assessore Scrofani. Pertanto i centri commerciali naturali vanno tutelati secondo le possibilità del comune. Con l'assessore si è fatto anche il punto della cartellonistica selvaggia all'ingresso dell'istituto magistrale di Via Tisia, dove enormi cartelloni pubblicitari e pali arrugginiti coprono la visuale della scuola e sono d'impaccio per chi è costretto a diammulare con la carrozzella. L'assessore Scrofani non ha escluso un intervento anche in Via Tisia, dopo però aver verificato se le opere installate rientrano nel censimento del 2009. Veneziano ha ricordato inoltre che ad Acradina e Grotta Santa non arrivano le navette di Ortigia che arrestano la loro corsa solo fino al monumento dei caduti, così come non esiste traccia nel quartiere del servizio GoBike. Più precisa la risposta di Scrofani, in tal senso degli eventi culturali e intrattenimenti per il sociale nelle periferie. In cantiere un programma culturale che tenderà a soddisfare tutte le realtà cittadine. Attività commerciali siracusane, ma non soltanto in crisi, sia per la profonda crisi a punta economica che attraversa tutta l'Italia, la Sicilia in particolare. C'è però chi in città cerca di inquadrare il problema parlando dei cosiddetti negozi cinesi. Un grid allarme è lanciato anche dal deputato regionale Pippo Gennuso che addirittura parla di invasione e chiede l'intervento della commissione regionale antimafia. Noi però abbiamo voluto ascoltare il parere di chi queste cose le tocca con mano ogni giorno, ovvero le possibili difficoltà economiche. Ne abbiamo parlato con un commerciante. Commercio asiatico, parlando in maniera diretta, i negozi cinesi a Siracusa spesso i commercianti si lamentano del fatto che abbiano maggiori opportunità di vendita rispetto ai commercianti locali, ai siracusani. In realtà il commercio cinese a Siracusa influisce così negativamente sugli introiti dei siracusani? è normale che influisce negativamente sugli introiti dei siracusani perché purtroppo loro hanno dei prezzi che noi non possiamo competere con loro soprattutto e poi loro sono gevolate su tante cose, tante cose che noi non possiamo, anche che noi siamo italiani che dovremmo essere più privilegiati di loro, invece solo loro che sono privilegiati. In che cosa? Ma su tutto, ad esempio se noi dobbiamo aprire un'attività che vorremmo fare, qualche attività, c'è una burocrazia italiana che non riesciamo nemmeno due o tre mesi per avere un'attività e ancora ci vogliono documenti, ci vuole questo, ci vuole quell'altro. Loro non so come fanno in 48 ore ad aprire delle attività, non fanno passare questa attività tutti questi mesi per aprire questo, non so i motivi, però ci sarà un'agevolazione per queste persone. Il motivo per cui la gente però preferisce spesso andare a comprare prodotti venduti in questi negozi, secondo la sua analisi da commerciante e da presidente del centro commerciale qual è? Allora, secondo me hanno loro l'agevolazione perché loro importano direttamente e noi qua paghiamo IVA, paghiamo tasse, paghiamo un mare di cose che loro sicuramente non pagheranno perché non possono andare a fare tutte queste cose perché loro saranno che hanno un altro tipo di commercio diverso. Questo spinge i commercianti siracusani ad abbassare i prezzi per trovarsi sullo stesso piano, voi continuate a tenere i prezzi di prima e forse la gente fa una scelta economica di questo tipo? Come facciamo ad abbassare i prezzi? Quando già siamo tassati e sopratassati, io non lo so, siamo costretti forse a chiudere e dare spazio all'ora a questo punto. Questi commercianti, ma gli acquirenti, i clienti, coloro che vanno a fare acquisti oltre che nei negozi, sperabilmente siracusani, anche nei negozi cinesi, cosa ne pensano? Gliel'abbiamo chiesto. Perché si compra sempre più spesso i negozi asiatici rispetto ai negozi siracusani? C'è una convenienza? Sì, credo che ci sia una convenienza. Perché i commercianti siracusani si lamentano alcuni dicendo che ormai i negozi asiatici stanno prendendo un po' di... È vero, è vero. Perché fa questa scelta? Perché costa di meno? Sì, sì, costa di meno. E anche delle cose buone a poco prezzo. Che tipo di acquisti fate poi generalmente? Casalinghi. Per lo più nei cinesi che si risparmia molto di più. Vuol dire che comunque siracusani i prezzi restano un poco alti rispetto... Sempre, sì. Un pochino sono abbassate, però sempre sono quelle. Cosa conviene comprare di più? Lei si è fatta un'idea quali prodotti? Lei per esempio cosa compra di più? Ma attualmente nulla, perché soltanto non ce ne sono. Sicuramente è una questione di risparmio. Lei signora che magari fai i conti a casa, si rende conto che c'è un cambio di tendenza? Sì, si risparmia. Se ne hai fatto un calcolo voi per esempio... Sappiamo che diciamo non sono delle ottime cose, però se calcoli che una cosa che compri qua magari... cioè le puoi comprare dieci di una che compri nei negozi normali. Generalmente che tipo di oggetti comprate? Qualsiasi cosa che capri... In questo momento ho comprato qua un faretto... Un faretto. Un faretto così. E quindi diventerà che qui rimarranno cinesi immigrati e l'italiano se ne andrà all'estero perché giusto giusto sono una persona che si sta trasferendo all'estero. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, qualche minuto, ci vediamo subito dopo qui per la seconda parte. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina Scavolini. Noi ti regaliamo un frigorifero Samsung. Scavolini Store Siracusa. Viale Scala Greca 381. Dall'8 al 10 novembre, Fiera del Packaging a Città Giardino Siracusa. Ore 10.21. Corsi, workshop, incontri e novità sul packaging. Sabato 8, dimostrazione sistemi di confezionamento e presentazione packaging ecosostenibile Tusi Bio. Domenica 9, mini pack for chef. Corso gratuito di conservazione e cottura sottovuoto. Lunedì 10, dimostrazione linea automatica di confezionamento e presentazione packaging natalizio. Dall'8 al 10 novembre, Fiera del Packaging a Città Giardino Siracusa. Uscita Siracusa Nord. Info 0931 76 14 44. Programma completo su TusiBio.com. Da vent'anni primi, da sempre. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna. Servizio alberghiero. Assistenza sanitaria medica e infermieristica. Attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca. Via Scala Greca 406 barra A Siracusa. RSA Anni d'Oro. Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06. O 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Sei alla continua ricerca di una banca pronta a condividere con fiducia i tuoi progetti. Banca base. Hai i tuoi stessi obiettivi. E cerca te per dare forza al tuo business. Banca base. Le tue idee. I nostri obiettivi. Entra nel mondo Gemar. Supermercati Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Cerca il punto vendita più vicino a te. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì. È davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro. Ha stile. E guarda che cromature. Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ti sei innamorato di un'auto. Ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre. Trendi come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport. Concessionaria Toyota. Contrada Tarja. Siracusa. Autosport. E anche Opel. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Capriamo con la cronaca. È ancora mistero sull'uccisione di un pensionato il cui cadavere è stato trovato in un vigneto. Qualcuno l'ha sgozzato. Saranno gli esiti dell'autopsia che è stata effettuata oggi dal medico legale dottor Francesco Coco a dare una svolta all'indagine per fare luce sull'omicidio di Antonio Barbaro di 67 anni e vendedore ambulante di Francofonte. Il corpo delle 67enne infatti è stato trovato senza vita lunedì mattina dal proprietario di un vigneto che si è premurato di denunciare il fatto ai carabinieri della locale stazione. La morte risalerebbe al pomeriggio di domenica scorsa. Il corpo di Antonino Barbaro è stato rinvenuto riverso a terra e inizialmente addirittura si pensava che l'uomo fosse stato colpito da un malore. In un secondo momento però è stato evidente che la morte era stata causata da terzi per la presenza delle numerose ferite inflitte con un coltello alla gola in diverse parti del corpo. I carabinieri della compagnia di Augusta coordinati dal capitano Federico Lombardi su disposizioni del sostituto procuratore Caterina Lovisi stanno indagando a 360 gradi per fare luce su questa tragica vicenda. Scena muta dei sette indagati coinvolti nell'operazione dei carabinieri denominata Epilogo. Gli interrogatori per rogatoria davanti al GIP del Tribunale di Siracusa. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ai sette indagati coinvolti nell'operazione antimafia denominata Epilogo portata a termine dai carabinieri la scorsa settimana. Salvatore, Luca, Davide e Deliseo Foti Giuseppe Frasca, Sebastiano Forte e Antonio Pappalardo sono comparsi dinanzi al GIP del Tribunale di Siracusa Andrea Mignieco che le ha sottovosti da interrogatori di garanzia per rogatoria. I sette hanno preferito fare scena muta col spetto del giudice sono accusati, come si sa, a bariutitolo di associazione per delinquere finalizzato al traffico delle sostanze stupefacenti oltre che per tentato omicidio. Gli arresti rappresentano la naturale prosecuzione e l'operazione denominata Botti di Capodanno per la quale si trovano già in carcere cinque delle sette persone raggiunte dall'ordinanza del GIP di Catania. I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Correnti hanno consentito di fare luce sul mandante e sugli esecutori del tentato omicidio subito dallo stesso Correnti il 25 ottobre dello scorso anno. In quale circostanza come si ricorderà gli furono esplosi contro sette colpi di pistola cinque dei quali a bersaglio ma senza colpire organi vitali. Lo stesso Correnti avrebbe dovuto essere la vittima di un altro attentato che era stato organizzato per la notte di Capodanno se non fosse stato per l'intervento dei carabinieri che avevano intercettato le conversazioni. Mandante del tentativo di omicidio sarebbe Eliseo Foti il quale avrebbe agito perché l'estate precedente avrebbe avuto un diverbio con il Correnti. Intanto il collegio dei legali difensori ha preannunciato ricorso alla Tribunale della Libertà. Stato di agitazione e proclamazione dello sciopero l'hanno deciso questa mattina al termine dell'assemblea indetta dall'FP Cigelle e FPCISL i lavoratori contrattisti del Comune di Augusta. La decisione è stata assunta visto che ad oggi vi pare che non vi sia da parte dell'amministrazione comunale alcuna proposta di stabilizzazione che coinvolga tutti i lavoratori precari nessuno escluso. I segretari generali dell'FP Cigelle e FPCISL Enardi e Passanisi presenti all'incontro hanno ribadito la necessità che in breve tempo venga riesaminata tutta la problematica relativa ai lavoratori precari. A poco più di un mese dall'arrivo delle spoglie della Santa Patrona di Siracusa in città noi siamo andati a fare un sopralluogo nell'opinione ascoltando l'opinione dei residenti della Borgata non soltanto su questo anche su altro che loro definiscono essere disagi importanti. La Borgata è una zona che aspetta da tempo di essere riconosciuta come il secondo grande centro storico della città ma che si ritiene anche al margine di scelte politiche e infrastrutturali. È vero che negli ultimi mesi è aumentata l'offerta di opportunità culturali e di svago ma permane nei residenti la sensazione che più ancora si potrebbe fare almeno per quanto riguarda la pulizia e i trasporti. In teoria voi sareste il secondo centro storico di Siracusa venite valutati o no? No, no non penso perché proprio qua siamo proprio persi 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 non viene mai pulita di fatto lo vedete che cosa c'è Ritenete anche che come trasporti siete un pochino penalizzati? Penalizzatissimi di fatto non bastano autobus da via a piave l'autobus per prendere l'autobus si deve andare in via sanale. Un'opportunità potrebbe essere offerta a detta dei residenti al ritorno del quadro del Caravaggio quel seppellimento di Santa Lucia che attualmente si trova all'abbadia di Piazza Duomo forse un sogno ma un sogno che potrebbe spingere una parte dei turisti con mire culturali a visitare la zona della Borgata. Certo per la Borgata sarebbe una cosa buona sarebbero turisti è difficile perché qua la Borgata non si interessa a nessuno. Intanto sono in dirittura d'arrivo le spoglie della patrona il 14 dicembre e la chiesa di Santa Lucia si prepara ad accoglierle con amore e devozione anche se qualche piccolo ritocco strutturale probabilmente deve essere ancora messo in atto. E adesso lo sport potrebbe subire una variazione la classifica del Girone B dell'eccellenza oggi intanto si recupera l'incontro tra Via Grande e Città di Vittoria e i vittoriesi vincendo si porterebbero da solo in testa al Girone. Sarà effettuato nel pomeriggio il sorteggio in Lega per conoscere il prossimo avversario del Città di Siracusa in Coppa Italia con i quarti di finale che si disputeranno mercoledì 12 e 26 novembre prossimi. Il sorteggio prevede la suddivisione territoriale quattro squadre nel Girone A e altrettante nel B. Nel raggruppamento del Siracusa sono in corsa Milazzo Giarre e Paternò. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza il Città di Vittoria oggi recupera la partita contro il Via Grande sospesa a causa di un malore all'arbitro con i vittoriesi in vantaggio. Il Siracusa tiene d'occhio questo match per due motivi. Il primo perché è il prossimo avversario della squadra allenata da Anastasi. Domani infatti gli azzurri si regalano in trasferta per una partita fondamentale per il proseguo del campionato. I vittoriesi si trovano al comando della classifica in compagnia proprio del Siracusa e di altre quattro formazioni. Se oggi dovessero vincere si staccherebbero dal gruppo di tre punti. L'Ivia Grande sarà privo di due pedine che hanno maturato un turno di squalifica. In vista dell'incontro di domenica prossima il tecnico sta facendo lavorare proverà ad allungare la striscia positiva dei risultati con la consapevolezza dei primi mezzi e del massimo rispetto dell'avversario battuto nella partita d'andata degli ottavi di Coppa Italia per 3 a 2. Il Vittoria peraltro potrebbe avere il dente avvelenato per aver subito un reclamo dal Siracusa accolto dal giudice sportivo della Lega per la posizione irregolare di un calciatore che ne ha determinato l'esclusione dalla competizione. Era l'ultimo servizio da mostrarvi il nostro telegiornale si conclude così noi vi auguriamo un buon prossimo di programma. Grazie.